Gli autori del Grande Fratello Vip hanno comunicato ad Alessandro Basciano che suo nonno è venuto a mancare nelle scorse ore. A rivelare la notizia pubblicamente, nel corso della mattinata di Santo Stefano, è stata la sorella dell'ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, con un post pubblicato sui suoi profili social. Basciano è stato informato della morte del parente poche ore dopo. Il 32enne genovese è stato chiamato in confessionale dove gli autori del reality show lo hanno messo al corrente della perdita. Ragazzi gli autori mi hanno comunicato, che è venuto a mancare mio nonno. Purtroppo è così, la mia vita è questa, succede sempre così. L'ultima volta l'ho visto, e non stava benissimo. Adesso ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato adesso. Queste le prime parole dell'ex Wade di ritorno dal confessionale, dopo aver appreso del decesso del congiunto. Non è la prima volta che il giovane, subito dopo aver sposato un impegno, viene raggiunto da una simile notizia. Anche con gli altri nonni è successo così, ha spiegato agli altri inquilini della casa, visibilmente provato virgola una volta stavo in Spagna ad esempio. E a un certo punto Alessandro è stato colto da un momento di sconforto, palesando addirittura l'ipotesi di lasciare il gioco. Sì me l'hanno detto proprio adesso. Se mi viene in mente di uscire lo faccio sul serio, la sfondo davvero la porta, non per finta. Mi hanno detto che tanto non potevo fare nulla. Mi sembra quasi che la mia vita sia un continuo apiandovn. Penso a fare famiglia e mi lascio con la mia ex, adesso ero sereno e arriva questa notizia. Ho quasi paura ad essere felice.